Buonasera Milano, abbiamo la conferma che Kulovic non gioca nell'Inter, Kulovic gioca da qualche altra parte, nell'Inter invece gioca Sfigovic che è un altro slavo molto famoso che vorrei che mettessero in vendita finalmente perché forse non è il caso tenere Sfigovic nella rosa dell'Inter. Niente comunque partita sfortunata oggi, sprecata un'altra opportunità, stavolta l'Inter però gioca meglio che contro la Sampdoria, gioca meglio non però durante tutti i 90 minuti. Il primo quarto d'ora partita bene l'Inter, sicuramente diciamo più Inter che Roma, ma la Roma passa con un tiro deviato ed ecco appunto che Kulovic non gioca nell'Inter ma nell'Inter gioca Sfigovic, è a questo che mi riferivo. Poi non bene comunque l'Inter nel resto del primo tempo, viene anche annullato un gol a Lautaro Martinez, secondo me è giusto annullare, era in fuorigioco, aveva fatto un bel gol però era fuorigioco. Nel secondo tempo l'Inter mette lì la Roma, schiaccia completamente la Roma, crea un sacco di palle gol, finché Skrignar non pareggia su calcio d'angolo e devo dire che è un pareggio strameritato. Poi classica azione dell'Inter con passaggio del pallone da quinto a quinto, quindi in questo caso da Young a sinistra, la palla viaggia, arriva fino ad Achimi che fa un grandissimo gol, fa un grandissimo gol, rientra sul sinistro e fa attraversa gol all'incrocio dei pali, altro che Teo Hernandez. Magari qualcuno di quelli che dicono che Teo Hernandez sia meglio di Achimi dovrebbe dare un'occhiata A agli errori difensivi di Teo Hernandez e B a questi gol di Achimi, che comunque sia ha fatto più gol e più assist di Teo Hernandez, il quale ha un gran bel tiro però ha un piede solo, Achimi invece se non sbaglio questo è il terzo gol che fa di sinistro, non so se mi spiego. Quindi molto molto bene Achimi, molto meno bene Conte che poi lo sostituisce, diciamo anche questo perché naturalmente Conte deve sempre far parte delle mie cronache in modo negativo. Vabbè, comunque fino a quel momento la Roma aveva creato solo quel pericolo, quello del gol con il tiro deviato. Devo dire che fino a quel momento l'1-2 per l'Inter era pure poco, ci stava anche un bel 3-1 per l'Inter. L'arbitraggio è stato pessimo come al solito. Nel primo tempo un'entrata di Lukaku nettamente sul pallone viene fischiata come fallo e per di più viene anche ammonito Lukaku. Secondo me lo stanno cucinando a fuoco lento, stanno continuando a riempirlo di gialli finché non dovranno squalificarlo che poi è l'obiettivo, è l'obiettivo no? L'obiettivo è arrivare a squalificare le punte dell'Inter. Visto che non abbiamo ricambi, perché non ammonirli per gialli che non esistono? Così poi dopo ci troviamo in difficoltà. Al settantesimo Vidal che oggi aveva fatto un pochettino meglio del solito cicca clamorosamente il pallone del 3-1 che a conti fatti ci costerà molto caro. Quindi come al solito Vidal si è dimostrato un somaro. Mi stava facendo, non dico ricredere, ma perlomeno mi stava evitando di bestemmiargli dietro. Oggi invece no, le bestemmie se le beccate lo stesso perché 3-1 la partita finisce al settantesimo. Invece no, lui Somaro di destro che è il suo piede dal dischetto del rigore va a ciccare completamente il pallone. Da lì in poi solo Roma. Da lì in poi solo Roma non solo perché Vidal ha ciccato il pallone del 3-1 ma anche perché Conte fa un paio di cambi assurdi. Innanzitutto tira fuori Hakimi che esce non troppo contento, l'uomo più pericoloso dell'Inter. Non dico il più decisivo perché ci metto anche Lukaku però, insomma, cambio assolutamente assurdo dal mio punto di vista e poi visto che non è sufficiente perché non inserire anche Gagliardini così per proteggere il risultato, immagino. Peccato che abbiamo perso 20 metri e hanno cominciato ad assediarci. Mkhitaryan simula in aria, Skriniar va a dirgli di tirarsi su e litigano. Quindi un chiaro giallo da dare a Mkhitaryan se non per la simulazione e per la reazione con Skriniar. Io l'avrei già munito per la simulazione, invece niente. Al 75esimo a momenti prendiamo gol da Kalsdrop perché la Roma fa un break alto portando via palla da Chimi in modo falloso, fallo che non viene sanzionato dall'arbitro, a momenti prendiamo gol. Sembra che qualcuno non voglia che l'Inter vinca questa partita e finché si tratta della Roma io capisco. Quando poi invece si ha la sensazione che sia l'arbitro allora capisco un po' di meno. Comunque, carissimi, grazie a quel somaro di Vidal che sbaglia l'1-3, grazie ai cambi di Conte, abbiamo perso 20 metri grazie ai cambi di Conte, grazie al solito arbitraggio di merda siamo riusciti a buttar via anche questi due punti. Occasione persa per l'ennesima volta. State calmi, il campionato è lungo, tanto sappiamo noi interisti come vanno queste cose, quindi non è che ci aspettassimo di combattere ad armi pari. Questo è quello che spero abbia finalmente capito Conte, che vincere il campionato con l'Inter non è come vincerlo con la Juve e neanche come vincerlo con il Milan. Se l'ha capito lui, se prende provvedimenti, se magari la smette di fare cazzate, forse qualche chance in più ce l'abbiamo, perché io non ho visto una brutta Inter, al netto delle cose che vi ho detto. Volevo in questo video invitarvi a seguire anche GM1000, che è un mio carissimo amico, fa anche lui dei video sull'Inter, poi sul suo canale è una sorta di archivio, un archivio con tutti i servizi delle partite dell'Inter nelle varie annate e poi è anche molto competente nei commenti. Quindi io metto sempre, linko sempre il suo canale, lo linkerò anche stavolta, quindi andate a dargli un'occhiata. Per il resto fatemi sapere che cosa pensate di questa partita. Un saluto a tutti, vi lascio qua il tasto per iscriversi e di qua i commenti che ho fatto sulle partite dell'Inter. Ragazzi, alla prossima! Un saluto!